Le solite favole raccontate dall'amministrazione comunale, gli annunci ad effetto, le varie mani delle autorità strette e poi il nulla. La stazione ferroviaria di Taranto, era stato annunciato un finanziamento di 25 milioni di Euro derivanti dal PNRR per la riqualificazione della stessa, Melucci a stringere mani, ad annunciare a fianco ai dirigenti massimi di ferrovie dello Stato, ma i lavori presentano ritardi pesanti, ammesso che mai ci saranno questi lavori, chissà. A un certo punto su questi ritardi si sveglia Piero Bitetti, Presidente del Consiglio Comunale di Taranto e dice che deve denunciare questi ritardi, dobbiamo sottolineare che la stazione è un punto nevralgico, la stazione è uno snodo importante. Caro Piero Bitetti, avete fatto la scoperta dell'acqua calda, ma davvero stai facendo la scoperta dell'acqua calda? Ma scusa, solo ora ti ricordi di questa vicenda? Ora che ci sono i ritardi? Ritardi che saranno infiniti, eterni? Io ho denunciato questa situazione, sto denunciando questa situazione da anni. A te come a Rinaldo Melucci è piaciuto sciacquarvi la bocca con questo annuncio, perché questa è la città degli annunci, delle operazioni che vengono finanziate e poi definanziate. L'importante è gettare fumo in faccia ai cittadini, che poi i risultati non vengano, poco importa. Caro Piero Bitetti, massimo rispetto per te, ma io penso che queste cose le stai dicendo tardivamente, le stai dicendo a babbo morto, le stai dicendo perché in un certo qual modo ti vuoi anche tu fare la tua bella campagna elettorale e vuoi fare vedere ai cittadini che sei sul pezzo, che parli delle problematiche. Questa stazione è versa in una condizione da terzo mondo, da terzo mondo. Non c'è un bar, guardate, il bar è chiuso, lo vedete lì, da oltre due anni. Ma scusate, quando il turista, il turista, il cittadino, qualsiasi persona, qualsiasi fruitore della stazione, arriva, si vuole prendere un caffè non lo può fare. Per non parlare poi di tutta la sporcizia, il porcile che sta in giro, il porcile che sta in giro. Per non parlare poi anche di gravi emergenze relative alla sicurezza, perché purtroppo, soprattutto nelle ore notturne, la stazione, quest'area, è frequentata da malintenzionati e ci sono stati parecchi episodi. Però ora era importante per Melucci e Compani dare l'annuncio e farsi belli davanti ai dirigenti delle ferrovie dello Stato. Tanto a Melucci e Compani interessava solo prendere per i fondelli i cittadini. Oh, i lavori, Dio vede e provvede. E non si sta provvedendo. Dovevano iniziare da oltre un mese i lavori, questi fantomatici e fantasiosi lavori di ristrutturazione. Voi vedete qualcosa? Tutto fermo? Tutto fermo? Guardate, il bar è chiuso, però in compenso si è svegliato il Presidente Piero Bitetti. Ha fatto la scoperta dell'acqua calda. Riflettete cittadini, aprite gli occhi, apriteli!